Bentornati SOS Arezzo TV, siamo anche una specie di bosco, ma siamo, voi non lo sapete perché adesso ve lo spieghiamo, ma questa che sembra una strada così quasi di montagna, in realtà una volta che cos'era Beppe? Era la famosa forrevia dell'Appennino che andava a scartamento ridotto da Arezzo a Fossato di Vico. Quindi questa stradina porta fino a Gragnone? Questa qui era la sede della vecchia ferrovia che aveva tre gallerie qui, poi aveva un bellissimo ponte del Torrino, poi camminava in cima alla cresta e poi con due curve grossissime scendeva fino a Gragnone e a Gragnone poi Bagnoro e poi entrano in città, era il primo binario della stazione di Arezzo. Siamo poco prima di Palazzo del Piero, tra l'altro c'era un progetto anni fa, si era parlato dell'ipotesi di recuperare questa vecchia linea Arezzo-Sansepolcro soprattutto, poi però la cosa è completamente scomparsa perché potrebbe avere un risvolto anche turistico di quel turismo lento. Sicuramente se tu la ricostruissi come era avrebbe un richiamo turistico enorme perché sarebbe una delle poche ferrovie a scartamento ridotto in Italia. Con un materiale trainante, oggi scomparso ma qualcosa si dovrebbe ritrovare perché le locomotive erano del tutto particolari, erano Breda e De Quieu, quindi erano pezzi unici che purtroppo durante la ritirata della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi distrussero completamente la stazione di Città di Castello. Radonato tutto il materiale alla stazione di Città di Castello lo distrusero completamente. Anche perché è stata approvata una legge proprio per le ferrovie turistiche in estate, per il recupero di 18 linee, un po' in tutta Italia, si tratta di o linee, chilometri di ferrovie o poco utilizzate o addirittura dismesse che adeguatamente risistemate e gestite potrebbero essere un grande volano per il turismo. Ovviamente non c'è questo tratto perché questa non è neanche dismessa. Qui abbiamo un esempio qui vicino, la Siena-Bonconvento-Monte Antico, che è il famoso treno-oratura che tutte le domeniche svolge servizio turistico fra Siena-Asciano-Bonconvento-Monte Antico e addirittura due volte all'anno lo rifanno anche alla revocazione con il treno a vapore. E tu ti dico che è molto molto frequentato perché è un pacchetto in cui oltre al treno la gente va a visitare i luoghi e quindi potrebbe essere l'occasione anche per questa. Un trenino che infila in questa meraviglia della natura e arriva a Sansepolcro. Tu non lo sai che questo è un treno che andava pianissimo e per arrivare al Torrino aveva delle problematiche molte volte. Se il treno era molto pesante e la locomotiva non ce la faceva, doveva smezzare i vagoni, quindi lasciando la metà al bagnoro, venire in cima al Torrino dove c'era uno scambio, quindi c'era il doppio binario, arrivava in cima al Torrino, staccava il treno che aveva portato, ritornava indietro al bagnoro a prendere l'altra metà e poi lo riattaccava. Ti rendi conto che oggi è impensabile fare cose del genere. Non mi ricordo quante ore scivolino da Arezzo a Città di Castello, ma si parla di 10 ore, 8 ore, qualcosa del genere. Comunque c'era poi anche un progetto proprio invece di creare un collegamento invece moderno Arezzo-Sansepolcro. Sì, con un tracciato completamente diverso. Però chi avrà mai le risorse per fare una cosa così? In Italia le ferrovie sono bistrattate, non c'è niente da fare. Noi dobbiamo battare tutto per strada, anche il trasporto dei merci, ma tutto per strada. Dovete, nella sua strada del sole non si passa più perché è tutta una colonna di autotreni. C'è stata questa volontà politica di voler far viaggiare tutto su strada, non so perché, nell'interesse di chi, forse nell'interesse di qualche cassa automobilistica, però è stato questo l'interesse generale. Voler far viaggiare tutto su strada e non su ferrovia. Per cui oggi le ferrovie, ad esempio il trasporto merci, sono quasi finiti, quasi abbandonati. Non so se verranno rilanciate, perché io penso che sarebbe il caso di rilanciarle, perché se vogliamo evitare smog, se vogliamo evitare inquinamento, io penso che l'unico mezzo che lo possa fare è la ferrovia. Ci vorrebbero grossi investimenti non solo per l'alta velocità, ma per collegare anche gli altri centri in modo dignitoso. Basterebbe la volontà, si è speso tanti soldi per fare l'alta velocità, quindi si deve fare anche qualcosa di alta velocità per le merci e sicuramente sarebbe un vantaggio per tutti e togliere dalle strade questa barrea di mezzi che tu prova a passare per l'Appennino e tu vedi che tutte e due le corsie sono piene di autotreni. Ci vorrebbe la volontà politica e anche le ferrovie oggi come oggi tendono a potenziare solo l'alta velocità e a lasciare indietro anche per quanto riguarda i passeggeri i trasporti regionali, i trasporti locali, che sono sempre disserviti in maniera esponenziale. Comunque fa un po' emozione pensare a questo trenino che passava proprio dove noi stiamo camminando. Tu pensa che andava talmente piano che i ragazzi durante la primavera, il periodo delle ciliegie, questa è la famosa per le ciliegiegie, uscivano, scendevano in cima il treno, rubavano le ciliegiegie e risalivano ancora dal treno. Che facevano in tempo. Capito. Va bene, dalla ferrovia dimenticata, che non c'è più, che collegava Rezzo a Fossato di Vico, ci vediamo domani. Ciao.